Ciao a tutti carissimi amici, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di microfoni ed in particolare parliamo dei Rode Wireless Go 2. Sono un upgrade che io ho un po' dovuto portare sul canale e ho pensato anche di parlarvene perché è vero che in tantissimi già li conosceranno, non essendo un prodotto super nuovo di Rode, ma magari molti di voi non hanno pensato ad acquistarli perché non hanno ancora capito che possono averne tanto bisogno, come non l'avevamo capito nemmeno noi. Io sono un fan di Rode, ragazzi, lo sapete, sia per le live che per le registrazioni, sia con lo smartphone che con la videocamera ho sempre utilizzato microfoni Rode, quello da tavolo. Per quanto riguarda la videocamera, quindi video dove tratto la rasatura, utilizzo questo che secondo me è comodissimo quando stiamo, ecco, come in questo momento direttamente di fronte alla telecamera, tra l'altro oggi sto utilizzando lo smartphone e capirete durante il video il motivo, però una limitazione di questa tipologia di microfono è proprio quella che dobbiamo un po' stare praticamente vicini alla telecamera. È molto comodo, come dicevo, sia per video di rasatura, sia magari per quando stiamo un po' in giro ad effettuare qualche vlog dove abbiamo alla fine il telefono un po' a distanza di braccio e quindi lo direzioniamo verso di noi, a quel punto può anche andare bene. Se siete infatti dei creatori di contenuti o semplicemente degli appassionati, anche a livello amatoriale, non per forza a livello semiprofessionistico, e volete migliorare l'audio del vostro smartphone perché utilizzate magari quello per le vostre riprese quando siete in vacanza, questa potrebbe essere una delle migliori soluzioni. Infatti adesso sto registrando tramite la capsula microfonica interna del mio iPhone 14 Pro Max, voglio farvi vedere cosa cambia se andiamo a collegare questo microfono. Ed ecco collegato all'iPhone il nostro microfono esterno, naturalmente fino all'iPhone 14 Apple utilizzava il connettore Lightning, quindi ho dovuto acquistare un cavo a parte che è in vendita separatamente come accessorio, nel caso dovesti interessarvi vi lascio il link in descrizione. Finalmente dall'iPhone 15 in poi invece abbiamo il connettore USB tipo C, quindi finalmente non c'è più bisogno di andare ad acquistare un accessorio a parte, ma potete già notare la differenza di audio, quindi questo può essere veramente utile se siete in una fiera, se state facendo dei vlog, se state facendo delle dirette sui vari social, potete notare già che con un microfono esterno, con queste prestazioni, io specifico utilizzo Rode, potete vedere quindi quanto potete andare a migliorare l'audio dei vostri video. Qual è però la limitazione di questa tipologia di microfoni? Beh sicuramente se ci allontaniamo dalla videocamera, dalla fotocamera, dallo smartphone, ecco che la qualità audio inizia a calare, perché il microfono per quanto noi possiamo andare a settare la sensibilità, è chiaro abbiamo alcuni problemi proprio di tipo di distanza. Immaginare per esempio nel caso di un viaggio, di una fiera dove noi poggiamo la telecamera o lo smartphone su un treppiede e ci allontaniamo dall'inquadratura, beh è chiaro che il volume dell'audio a quel punto va a perdersi, cominciano magari anche dei rumori ambientali a disturbare la nostra trasmissione, la nostra cattura audio e quindi abbiamo cominciato ad avere la necessità di acquistare dei microfoni lavalier. In questo caso abbiamo i wireless Go prima versione che utilizzavo principalmente con la videocamera, con la fotocamera. Questi sono, è un kit di microfoni, quindi uno da collegare alla fotocamera tramite cavetto jack, quindi abbiamo un ricevitore ed un trasmettitore che grazie anche al magnete potete andare a mettere sulla maglietta e lo potete vedere che io lo utilizzo in tantissime recensioni e questo effettivamente ha svoltato la mia qualità audio dei video perché a parte che il RAW ha una qualità audio fantastica per il prezzo al quale questi microfoni vengono offerti, l'autonomia è ottima e quindi ci permette di allontanarci dalla videocamera anche tanto, quindi se abbiamo un amico che ci aiuta, un operatore video che ci aiuta durante alcune presentazioni oppure magari se dobbiamo effettuare alcune interviste possiamo andare ad applicare una trasmittente sulla maglietta, sulla camicia della persona intervistata e quindi andare a catturare l'audio anche se noi stiamo riprendendo a distanza. L'unica pecca di questo kit è che non può essere collegato allo smartphone, tant'è che nonostante io abbia l'applicazione RAW installata, come in questo caso che sta anche aiutandomi a migliorare l'audio, quindi a catturarlo direttamente all'interno dello smartphone, nonostante io abbia acquistato il cavetto a parte Lightning, quindi non stia utilizzando quello jack che era fornito in dotazione, l'applicazione, comunque l'iPhone mi restituisce un pop-up di errori dove dice che l'iPhone non è in grado di andare ad alimentare e quindi ad utilizzare questa tipologia di microfoni. Fin qui poco male, ho iniziato ad utilizzare la videocamera quando avevo bisogno di effettuare questa tipologia di riprese fino a quando, insomma, ragazzi, sia per le dirette YouTube che TikTok che Instagram, se siamo in viaggio, se siamo in fiera dove non posso portare con me tutta l'attrezzatura, beh, ho notato che comunque è indispensabile utilizzare un kit del genere. E finalmente ci siamo decisi di fare il nostro upgrade andando ad acquistare i Wireless Go 2 che finalmente sono, ve lo faccio vedere, quelli qua compatibili anche con i sistemi Apple, quindi finalmente lo possiamo utilizzare con iPad, con iPhone, sia con la connettività USB di tipo C, sia con la connettività Lightning. In più, questo kit, che adesso andiamo a vedere nel dettaglio perché effettuiamo anche un velocissimo unboxing, è composto da un ricevitore, che tra l'altro ha un display, mentre la prima versione non lo aveva, e due trasmettitori che possono essere utilizzati anche contemporaneamente. Questo può essere molto utile se fate video di coppia, se fate delle interviste, quindi dove due persone devono avere la stessa qualità audio. Quando noi facciamo dei video assieme a Stefania, ero costretto a utilizzare o questo microfono che sto utilizzando adesso, che riusciva a captare la voce di entrambi, oppure dovevamo passarci, tenendolo quindi in mano, il trasmettitore Wireless Go nella versione singola. Questo insomma era tutto un po' scomodo. Andiamo invece a vedere come possiamo andare a migliorare al top, proprio al massimo, le nostre dirette, i nostri video, collegando uno di questi microfilm, in la valiera al corpo, in questo caso il Wireless Go 2, all'iPhone, e andiamo a vedere un po' che differenza rispetto a questa tipologia di microfono. Velocissimo unboxing, vediamo cosa andiamo a trovare all'interno di questa confezione, oltre ai microfoni e alla trasmittente. Andiamo a vedere tutto il kit, tutto il corredo. Naturalmente la pochettina che contiene i microfoni rispetto alla prima versione è più lunga, perché naturalmente qui abbiamo due microfoni più il ricevitore. All'interno di questo scatolo c'è tutta la cavetteria, la andiamo a vedere tra poco. Ed eccoli qui i nostri microfoni e il ricevitore. Tutti completi, tra l'altro il packaging di roto, ragazzi, è veramente fantastico. Eccoli qua, abbiamo i trasmettitori, eccoli qui, uno e due, e tutti naturalmente ben conservati. Abbiamo anche un gattino morto antivento, anche uno in più di scorta, perché ne abbiamo uno, due, tre, quindi ce ne è anche uno di scorta, più il ricevitore, con lo schermo integrato. Ogni microfono, compreso il ricevitore, sono protetti da questa plastichetta, vedete, trasparente, che fa ad evitare i graffi. Questa poi la andremo a togliere in fase di utilizzo. E di più, come abbiamo visto, qui all'interno c'è un altro scato con tutta la cavetteria. E dovremmo quindi avere, la cosa più importante, vedete, i cavi USB di tipo C. Quindi se avete i nuovi iPhone o qualsiasi altro tablet, potete andarli a collegare ai vostri dispositivi. Naturalmente anche alla fotocamera, alla videocamera, tramite il cavetto jack. Quindi questa volta, vedete, abbiamo anche non solo i due cavi per i trasmettitori, ma anche il terzo per il ricevitore. Insomma, possiamo caricarli tutti e tre contemporaneamente. All'interno della confezione non possono mancare il manuale e la guida rapida, come questa, che ci spiega come accendere, quindi la qualità, accendere il ricevitore e i trasmettitori. In più abbiamo anche una guida, le funzioni principali, come vi dicevo, è tutto veramente estremamente semplice, sono pochissime le opzioni e pochissimi i tasti da utilizzare. Come poter agganciare il ricevitore al cold shore della macchina fotografica, tramite il collegamento jack, oppure qui in basso, al collegamento USB, type C, è un dispositivo Android oppure iPhone. In più, tramite il tastino della regolazione dei DB, possiamo scegliere se utilizzare il volume massimo in ingresso, oppure andare un po' a tagliare il volume. Un'altra funzionalità molto importante è quella di poter decidere se entrambi i canali dei trasmettitori devono essere miscelati, e quindi entrare in modalità stereo all'interno del nostro dispositivo fotocamera o smartphone, oppure se un microfono deve andare sul lato destro, un altro microfono sul lato sinistro. Andiamo ad accendere i ricevitori in modo tale da potervi mostrare il piccolo display e le informazioni che visualizza. Vedete il primo canale, il secondo canale, il livello di carica della batteria, i DB del volume. Andiamo quindi anche ad accendere uno dei trasmettitori, dovrebbero già essere accoppiati, ed infatti ecco qui ci aggancia canale 1, già sta andando a ricevere la nostra voce, abbiamo, vedete in presa diretta, il volume della voce che lui va a captare, ed ha anche il livello di segnale della trasmissione wireless, quindi di quanto il trasmettitore è lontano. Nella parte posteriore abbiamo le due clip per andare ad agganciarle alla camicia, nel caso si utilizzano invece delle t-shirt, io ho fatto arrivare con questo kit anche un magnete, un Mac Clip, naturalmente di tutto questo kit ragazzi, trovate il link in descrizione qualora volesse interessarvi andare ad acquistare oppure andarvi ad informare meglio. Il Mac Clip è molto utile per andare ad agganciare i microfoni ad una t-shirt, quindi se non abbiamo delle camicie, non abbiamo quindi delle asole o dei taschini dove possiamo andare ad utilizzare direttamente, vedete, la clip a molla, tramite il Mac Clip, quindi questo robusto magnete ragazzi è veramente forte, si può mettere un lato di magnete all'interno della clip e l'altro sarà quello che andrà all'interno della maglietta, vedete che va direttamente, vedete, ad agganciare, quindi questo sarà agganciato sotto la t-shirt, mi serviva quindi un secondo, visto che ne avevo uno, ma ne serviva un secondo per il secondo microfono e quindi l'ho ordinato. Ok, io direi adesso di andare a utilizzare questo con il nostro smartphone e andiamo a vedere un po' la qualità audio di questi Rode Wireless Go 2. E visto che indosso una t-shirt, ho utilizzato uno dei Mac Clip Go per andare ad agganciare uno dei Wireless Go 2 alla mia t-shirt ed ecco il ricevitore collegato all'iPhone, finalmente tramite il cavetto Lightning e l'audio in ingresso è quello proveniente dal microfono Lavalier della Rode. Al posto di utilizzare quindi una versione Canon del microfono, abbiamo adesso la possibilità di essere anche molto più distanti dal nostro smartphone, quindi se lo utilizziamo in vacanza oppure durante qualche evento, se siete creatori di contenuti e volete poter essere liberi di muovervi durante lo smartphone fino ad arrivare anche ad una distanza notevole, potete superare tranquillamente anche i 5 metri dal ricevitore, non solo, ma come abbiamo visto possiamo anche utilizzare un secondo ricevitore da collegare magari a una persona che dobbiamo intervistare oppure a un nostro collega con il quale dobbiamo collaborare per la creazione del video e questo insomma rende tutto molto più comodo. Essendo dispositivi che devono essere utilizzati in mobilità, naturalmente una particolare attenzione è stata data all'autonomia, infatti la batteria integrata è capace di alimentarli fino a 7 ore e la trasmissione 2.4 GHz è veramente molto stabile. Insomma, se avete qualche altra domanda riguardo i Wireless Go 2, fatela naturalmente qui sotto nel box dei commenti e vi risponderò nel più breve tempo possibile. in descrizione trovate tutti i link ai microfoni Rode che utilizziamo qui sul canale. Io naturalmente vi ringrazio per aver visualizzato il video fino a qui, spero che possa esservi stato utile e non dimenticate anche di iscrivervi al canale e di cliccare sulla notifica della campanella per essere aggiornati sull'uscita dei prossimi video e non dimenticate inoltre di registrarvi a tutti gli altri pagine social. Noi ci rivediamo nel prossimo video, un mega abbraccio dal vostro Bruno. Ciao! 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 Grazie a tutti.